Ciao a tutti amici nudi sul mio canale! Oggi io e Mama abbiamo questo pacco e voglio capire che c'è dentro subito! vogliamo vedere che cosa c'è all'interno di questo pacco? sì! e dai scopriamolo subito! aspetta che ti aiuta vuoi capire che c'è dentro? io sono curiosissima scopriamo subito che cosa c'è? c'è una bambola dentro qua allora andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno di questo pacco adesso ti aiuta mamma a tirare fuori e vediamo c'è il mio computer vediamo che cosa sono ok? sì, scopriamo che cosa c'è una mamma? mamma, c'è una bambola qui allora vediamo un attimino sono due scatole della Quercetti allora qui abbiamo il combi ABC più 1,2,3 e qui invece abbiamo il fashion design wow! voglio qualche tagletto ok, allora adesso scopriamo che cosa c'è all'interno di queste due scatole vediamoli un po' nel dettaglio che dici? sì! allora, Sara ha scelto che vuole aprire per prima la fashion design che appartiene alla linea play intelligente la fashion design è una bambola magnetica a due lati da vestire la fascia di età è dai 4 agli 8 anni in totale ci sono 20 pezzi e ecco qui sulla scheda c'è il pensiero creativo lo sviluppo del linguaggio il coordinamento oculo-manuale mettere relazioni e raccontare storie ora scopriamo subito questa bellissima scatola e il suo contenuto e non vede l'ora allora, apri la scatola dai! vediamo che cosa c'è piano piano wow! una bambola! ok, allora c'è una bambola c'è un'altra bambola aspetta, appoggiamola qui così poi montiamo il tutto questo è il suo cosa? piedistallo e poi questi qua devono essere i che nella foca del momento Sara ha aperto tutto e si sono versati al contrario e questi qui sono i vestiti si si ragazzi sono tutti a forma di calamita sono tutti calamita si a mamma perché praticamente si possono mettere su questa bambola adesso li smontiamo tutti e vediamo che cosa come è composto il nostro giochino ti va? si si molto ti voglio anche giocare è certo guardate vediamo le rosse allora iniziamo a staccare la nostra scatola e devo cominciare a aprire prima questo perché è il mio primo cacco prima questo qui è qua allora Sara non ha proprio aspettato vedi che ha messo i scarpe al contrario mamma non ci ha aspettato ha già subito spacchettato il tutto è già all'opera sì ma lei adesso va a danza ah va a danza allora ecco qui il contenuto della nostra scatola nel dettaglio ci sono due figure una diversa su ogni lato e poi ci sono questi set per creare la nostra bambola i suoi look e le sue storie in pratica Quercetti ha rivisitato in maniera in magnetica con un sistema magnetico il classico delle bambule di carta che Sara tanto ama com'è questo giochino a mamma carino ti piace? sì tanto e dai proponi un look poi passiamo al secondo giochino dai signore guarda lei va a danza lei ah lei è quella che va a danza non l'altra eh no purtroppo lei non no perché lei deve andare a passeggiare e prende i fiucchi mmm e le mette le carpe poverina le carpe e le barbabazza o le carpe con le blu ecco qua è pronta fa vedere il look eh giro ok perfetto ora tocca all'altra lei va lei abbiamo detto che lei va va proprio a va a prendere delle cose ovviamente e che la signorina non usa i dati perché lei ha le carpe aggettate per la che è passata per loro l'altra e e anche con l'hancer con l'hancer eccola qua pronta falla vedere qual è il secondo look mmm mancano i capelli però eh infatti potremmo ripetito su i capelli povera povera poverina ahah 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 le serie di capelli brutti troppo ahah perché oggi sono altri poveri per lei e per sua sorella poverine eh come questo giochino bello e tutti i miei capelli ora come faccio creare i negozi il negozino lei deve usare questo per per forza ecco è pronta è pronta per niente tuoi ecco pronte per andare a facciamola vedere ok vediamo il primo look qui e allora perfetto apriamo anche il secondo giochino va bene ma dopo ci devo giocare con certo giochiamo con tutto si tutto ok allora apriamo la seconda scatola prendi anche l'altra scatola e va bene la prendo ma così pesante poi si botta tutti i vestiti vediamo un attimino il combi abc più 1 2 3 impara a disegnare a leggere e a contare wow e dai 4 agli 8 anni ecco qui vediamo un po' le caratteristiche motricità fine sviluppo cognitivo sviluppo del linguaggio ragionamento logico e matematico e prelettura c'è anche questo adesso vediamo tutto questa è tutta la scatola due in uno ossia è una lavagnetta magnetica e si può anche scrivere e che cosa c'è qui dentro ora scopriamo apriamo apriamo questo scatolina e vediamo ti va? che cos'è? è grande è grandissimo ce la fai? si ce la faccio ce la fai se tu sei forzuta si sei molto forte sei molto forte mamma si apriamo questa cosa apriamo questa valigetta apriamo la valigia che è una caravilla apriamo la nostra oh mamma guardate che cosa sono questi queste sono tutte le lettere i numeri altre calamite queste sono altre calamite possiamo anche usarle allora adesso sistemiamo il tutto e vediamo un attimino nel dettaglio ti va? si ovviamente così non possiamo fare niente con tutto i pennarelli i pennarelli si era proprio una lavagnetta ecco dovevo la possiamo anche usare per quella così lei è un cucciolo io per il cucciolo userei questa qua che ci sta qua sopra il gattino la paperella la palla il leone oh la torta di compleanno si così la ciliegia così lei può fare compleanno così la bambola così la bambola può fare già il compleanno ok perfetto allora adesso assembliamo il tutto e vediamo poi nel dettaglio ecco abbiamo montato vediamo un po' come funziona questo gioco wow ma ecco ma ecco ho capito come si mettono le calamite wow ah sì esatto allora sulla parte nera vanno le calamite mentre quella è la bianca possiamo scrivere con i pennarelli e poi si cancella con il cancellino apposito ora cominciamo a fare un po' di decorazioni la torta non la metto perché la signorina adesso fa il compleanno la signorina vedete dove si rimane cattivo ed è quella qua allora il nostro combi abc più 1 2 3 si compone infatti di questa valigetta che contiene all'interno 48 lettere 48 numeri e poi ci sono 12 e 10 tra personaggi e elementi tipo ad esempio la torta di compleanno abbiamo visto eccoli qua ci sono i fiori, il sole, la scala, la casetta questi qua sono i numeri e le lettere tutte colorate e vanno tutte attaccate su questa parte nera che è quella calamitata Sara ad esempio può prendere i numeri e le lettere e imparare a creare delle paroline oppure possiamo imparare a raccontare posso farla a me ora faccio la giochi alla maestra? allora donna che cosa vuoi fare? vuoi far vedere un pochino anche le lettere? attacchiamo qualcosa vai 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 ora impareremo come mangiare patatina ora facciamo mangiare patatina la bocca si deve mangiare molto tutto grazie a questo gioco della quercetti che vi ricordo che è un'azienda italiana i nostri bimbi possono infatti imparare tantissime cose molto istruttive questa è una valigetta multifunzionale con cui i nostri bimbi imparano a leggere raccontare utilizzando le lettere e i numeri magnetici mentre dall'altra parte si possono esercitare a scrivere e a disegnare proprio così il nostro combi ha un'interfaccia molto molto intuitiva quindi i bimbi sono proprio liberi nel poterlo utilizzare sono naturalmente super sicuri perché poi è tutto sviluppato su una forma su un design molto arrotondato quindi guarda se ho due non fai ancora un uomo che io ti ho fatto solo dal preside dal preside e poi grazie alla comoda maniglia una volta chiuso il tutto è anche trasportabile io scrivo tutto qui su quattro buone e tu devi sempre accontare naturalmente vi lascio tutto in descrizione i link di riferimento per andare direttamente poi sulla pagina della Quercetti e poter acquistare questi due giochini sia la nostra valigetta multifunzionale la combi abc123 che la fashion design che vi abbiamo fatto vedere prima allora come sono questi giochi della Quercetti? belli ti piacciono tanto? sì molto qual è il tuo preferito? questo e questo tutti e due? sì tutte e due mi piacciono tanto perché questo è il mio preferito quello di dietro perché mi piace tanto anche l'azzurro e va bene e allora io e te adesso ci mettiamo subito a giocare sì ovviamente perché il negozio è tutti in ordine qua dobbiamo mettere in ordine questo negozio allora la Quercetti ancora una volta ci ha super stupito con questi giochi assolutamente fantastici mamma cosa sta facendo Edwitt? cosa sta facendo lì sopra? e allora noi riprendiamo il gioco vi lasciamo un grande bacio da mamma e da Sara per il momento è tutto e ci vediamo alla prossima alla prossima ciao alla prossima sì alla prossima ciao 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 ciao